va bene allora michael si usa solo il piede destro e quindi ho la possibilità di farlo si perché è già da tanto che è una vita allora va puoi chiudere la macchina è automatica e ci sono il piede destro ok poi il cambio al volante con le palette va bene con la destra sali con la sinistra scali ok qua c'è il clacson e le frecce sono dietro le palette quindi adesso metti il piede sul freno per favore il destro è mettiamo la prima vedi te l'hai tutte segnate lì nel tutto il problema se lo vedo fuori qui qui si è un po incastrati dentro allora adesso che siamo in prima acceleri ti fermi lì in mezzo che la sarete ti fa le foto ok vai pure ok perfetto vai pure andiamo non è come migliorare il mio pesciapia no? è un po' di meno qui andiamo a destra sì poi andiamo a destra e adesso andiamo a destra dicendo vedi vi salviamo dalla magra allora mai domanda qui in centro andiamo più minimo misteri turisti poi dopo cadere un po' il fuori non mi sembra meglio Sì Ok, vai fuori. Ok, vai fuori. Vai. Ok, tu puoi accelerare. Vai fuori. Vai fuori, vai fuori. Vai fuori. Qui abbiamo 570 KV. Eh lo so. La conosci bene. Vai fuori, dai fuori. Mi ricava dato? Ma intanto stamattina verso le 1. Adesso erano le 10. Ma non faccio niente, sono un po' nulla oggi. Dovete tornare su? Sì, siamo in treno. Ah, siete in treno? No, sono tutti in macchina. Sono venuti a prendere su. Ok, vai pure. Sì. Guarda, qua. Non puoi sorpassarla. Questa qua. Vai fuori. Non puoi sorpassarla. Non puoi sorpassarla. È sicuro che non la riprende dalla linea. Ah, questa fa davvero cento in tre a quattro. Ho tre secondi e quattro. L'ho sentito. Non puoi sorpassarla però. Si sente? Si sente? Si sente? Si sente. Ma un po' qua, dai? Ma pure, è un po' in generale, dai? e' da? ok ok vai fuori? Grazie a tutti. 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 Grazie. Ok. Ok. Perfetto. Ok.